Ehi da ciurma, io sono Mazzatezze e ben ritrovati in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Nelly Kutalot Spoonbix Ahoy. E' una riedizione in versione HD di un gioco che era stato rilasciato gratuitamente in precedenza, che in realtà credo adesso non sia più trovabile sullo store. Questa recensione fa parte di quelle svolte per The Buy, The Big Adventure Event, organizzato da Hitsent, di cui avevo già portato qualcosa in passato, ma ero rimasto un po' indietro con lo schedule, con gli appuntamenti delle recensioni da portarvi, perché ho avuto parecchi impegni, come avrete potuto vedere dalla pausa che mi sono preso dai video. Comunque, tornando a Cannone, che ci sta anche, insomma, visto l'ambientazione piratesca, di questo gioco. Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca, sviluppata principalmente da un solo mino, chiamato Alasdair Beckett King, se no ricordo male, in cui appunto nei panni di Nelly Cutlet andiamo a risolvere un mistero su questi Spoon Bakes, che sono questi uccellini, che chissà mai hanno abbandonato completamente l'isola. Ci troviamo in quest'isola in cui arriviamo con la nostra barchetta e dobbiamo risolvere che cosa è successo, qual è il mistero che c'era dietro questa isola. Andremo a risolvere quindi vari problemi, andremo a incontrare vari personaggi e il tutto è caratterizzato comunque da una vena ironica molto forte perché comunque ogni personaggio è molto stereotipato e molto simpatico. se per quanto riguarda i due personaggi che vendono charabattole in un negozio di gadget pirata un po' strani, c'è un ammino che fa il tiro a segno con le anatrelle, una finta nobildonna che ha sposato il conte dell'isola, comunque tutto poi ancora esacerbato dal fatto che ci troviamo in un contesto estremamente piccolo, quindi c'è il conte di un'isola che però in realtà è conte su quelle quattro persone in croce, c'è il bar insomma in cui si trovano due persone e quindi è tutto molto fresco e simpatico. Gli enigui sono in genere abbastanza semplici e non richiedono troppe illucubrazioni, troppi giri mentali e ho trovato giusto qualche problema in alcuni alla fine per cui sono i miei sono andato a cercare delle soluzioni e ho più che altro anche per il fatto che volevo chiudere con la recensione, poi alla fine non ho avuto modo di registrare questo audio che vi sto fornendo in questo momento per cui diciamo che non è stato poi così necessario, avrei potuto saltarmi, però molto grazioso, il gioco viaggia veloce, si risolve verso le due ore, due ore e mezza circa e devo dire che lo consiglio abbastanza a tutti, anche perché questa versione qua, non so appunto se è presente ancora quella gratuita, ma questa qua in HD su Steam è presente a meno di 2€ a prezzo pieno per cui è assolutamente qualcosa da provare se per caso ne aveste l'occasione. Detto questo io vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!